...contenuto nel musical americano del 1925 intitolato No, No, Nanette. Si tratta di un duetto nel quale i protagonisti immaginano il loro futuro. Due anni più tardi viene eseguito dall'orchestra di Mosca in una versione del tutto nuova. Ascoltato da tante generazioni, nelle sue numerose trascrizioni è ancora oggi molto apprezzato. Eseguiamo ora, appunto, punta per due, T4-2. Applausi 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 Applausi